Stanno morendo i bambini, nelle terapie intensive noi abbiamo i minorenni, voi continuate a fare... Non dica fesserie, non dica fesserie, per favore. Comunque sono delle cose... Questa è veramente vergognosa disinformazione. Perché lasciano a casa i medici? Non l'ho detto io e non l'ha detto un Novak, l'ha detto il professor Bassetti che bisogna smetterla di diffondere il terrore divulgando panico con dei dati falsi. E che i dati che vengono dati siano falsi, non lo dico io, non lo dice neanche solo Bassetti, ci ha scritto un intero articolo, Franco Becchi, sul tempo, dimostrando come anche i dati dati in conferenza stampa da Mario Draghi e da Speranza fossero falsi o per errori o per falsificazioni evidenti. Quindi basta con questo terrore, non è vero che i bambini muoiono di Covid, non è vero. Gli unici bambini che sono morti, risultati positivi, sono morti per altre patologie, ok? E questo è vero, dottoressa, lo sappiamo, è zero. Dottoressa, lo sappiamo. E la ammettiamola di difendere bugie. Un attimo, onorevole, un attimo.